Noi proprio di questo in questi giorni stiamo discutendo insieme ai soci e ai colleghi del risultato positivo e soddisfacente di questa stagione che rimarrà forse negli annali del turismo calabrese per numero di presenze e per qualità anche che stiamo cercando con le azioni di marketing di riqualificare e di dare un'immagine nuova al turismo calabrese e di diamante in particolare. Il risultato che abbiamo registrato è in termini circa, non abbiamo ancora i dati ufficiali ma ci attestiamo sull'ingremento del circa 20% rispetto alle presenze dell'anno scorso e degli anni precedenti. Quindi un ottimo risultato dovuto sicuramente alle congiunture internazionali che mostrano molta insicurezza nei mercati del Maghreb, Nord Africa, del bacino del Mediterraneo. Questo è un fatto positivo che già nel passato, ahimè per disgrazi altrui, ne abbiamo soffrito noi ma con grande impegno dobbiamo consolidare per il futuro.